Quale di questi animali, per corteggiare la femmina, suona un albero come fosse uno strumento affiato? Il panda, la rana, lo scimpanzee e il coniglio. Io direi panda. Nella foresta pluviale del Borneo c'è un albero che vive anche nell'acqua e durante il corteggiamento i maschi, uno di questi animali, entrano dentro questo albero che dentro è abbastanza vuoto e mandano dei suoni. E se quando trovano la nota giusta che rimbomba, questi suoni rimbombano dentro l'albero trovano una nota giusta che attrae le femmine che ritengono in questo modo l'animale stesso più sexy. Sono delle rani, 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 rani. Mi dispiace molto che non abbiamo, Elena, non è riuscita a trovare il rumore di quest'animale. Peccato, Elena, è la prima volta in tutti questi anni che non... Ti corteggerei troppo facendo. Ah, perché lo fa anche la rana femmina verso il rano, la rana maschio? Ma allora evita, evita. Prova un po', prova un po'. Come fa? Funziona! Ma incredibile! Funziona! 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 Funziona!